La pianista Amy Beach è la prima donna americana a comporre una grande sinfonia, la Sinfonia Gaelica, nel 1896. Sulla sua scia, nel panorama delle compositrici contemporanee d'oltreoceano, da una generazione all'altra si fanno strada delle pioniere tese a proiettare la musica nel futuro. Ruth Crawford Seeger coniuga impeccabilmente tradizione e innovazione in una tecnica robusta e vigorosa, che fa largo uso di ardite dissonanze. Carla Bley è la più illustre compositrice di musica jazz. Ellen Tuff Zwillich è la prima a vincere nel 1983 il premio Pulitzer, uno tra i più importanti riconoscimenti per un musicista americano. Le coetanee Joan Tower e Gloria Kitts si avvicinano al serialismo. Jennifer Eden è insignita, tra l'altro, del premio Pulitzer 2010 per il suo concerto per violino e del Grammy Award 2009 per il percussion concerto. Margaret Brower fonde in una miriade di combinazioni i colori dei singoli strumenti.